non 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 se potete seguire sono mio come le youtubers mi potete seguire sul mio snapchat a tati-archer oppure anche sulla mia pagina di instagram mi sembra tatiana-andreoli quando vuoi voilà, una scheda andata non è che quando inizia ridere cosa fate voi oggi? ecco, ecco ci abbiamo provato mi pressi una mira per favore? si, si scusa ok abbiamo già provato a farle qui di nuovo erano tutte così sono divertenti ma non scherzo va bene, non senti quindi eeeh cosa fai odita? non ce la faccio ehi grazie grazie ma oggi voi che fate? matematica cosa è matematica? le funzioni ora fate anche l'altro adesso si calcio tu che fai tani? tani ma licenziatela io non lo so ma fate qualcosa avete preso la stanza meno patriotica però non ce l'ho calmato però vedete ho provato prima ma non si su immagini mi trovo no su immagini ho già guardato su immagini c'è il trucco guarda dai fai una cosa vai sul metto dai 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 come si chiama il cararmato? no caro tank scritto tank no magari c'è un nome cararmato come lo faccio Sì, non c'è una città, non c'è una città. Ma va a securare? Abbiamo finito? No, ma siamo 10 secondi. Siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati? Un buon ruolo è la biblioteca.